Buongiorno, ben trovati per l'edizione delle ore 14 dei nostri telegiornali che apriamo con la conferenza stampa che si è tenuta in mattinata, ha parlato il presidente della regione Nello Musumeci con l'assessore all'economia Armao, hanno fatto un'operazione di trasparenza sui conti della regione fino a questo momento, 5 miliardi e 900 milioni di euro di disavanzo e un indebitamento di 8 miliardi e 35 milioni di euro. Sentiamo. Conti della regione inizia l'operazione verità del governo Nello Musumeci che stamattina ha convocato la stampa insieme all'assessore all'economia Gaetano Armao per fare il quadro dello stato di salute dei conti della regione Sicilia. Una salute che vacilla, ci muoviamo su un terreno minato, esordisce così il presidente che subito passa ai numeri. La regione che ha trovato è una regione con un disavanzo da 5 miliardi e 900 milioni di euro e con un indebitamento di oltre 8 miliardi. Una situazione che non può più andare avanti. Negli anni, ha detto il presidente, sia andato avanti alla giornata. Adesso occorre un intervento di risanamento strutturale dei conti per il quale ci vorranno almeno 3 anni. Al primo posto, come ribadito anche dall'assessore al ramo Armao, c'è il dialogo con il governo nazionale con il quale rinegoziare gli accordi precedenti. L'obiettivo primario per Armao è la riduzione della spesa e del debito pubblico. I primi interventi annunciati riguarderanno il contrasto all'evasione, la revisione degli accordi Stato-Regione e il miglioramento della performance dei tributi. Una nuova versione dell'autonomia siciliana annuncia Armao con conti e carte in regola. Il negoziato con lo Stato è essenziale per azzerare molti degli errori fatti in passato e riaprire un negoziato nel quale sia data dignità all'autonomia finanziaria della Regione. L'autonomia finanziaria è radicata nello Statuto e proprio su questa dobbiamo rilanciare un'opportunità di crescere. Con la Corte Conti c'è la massima intesa e collaborazione in tutto questo iter di revisione della spesa ma soprattutto sulla indicazione di un gettito che garantisca ai siciliani il diritto all'innovazione, di un gettito che garantisca alla Sicilia di poter offrire i servizi ai cittadini che i cittadini meritano per non essere cittadini seribili. Il spazio di investimenti è totalmente impregiudicato, quello che deriva sia dai fondi europei che dal patto per la Sicilia, quindi su questo. L'importante è per esempio disancorare dai tetti sulla spesa il cofinanziamento di questi investimenti perché è necessario che la macchina di spinta sugli investimenti lavori a massimo regime non possa essere tarpata da tetti sulla spesa che sono inaccettabili, che il precedente governo ha negoziato e che noi intendiamo modificare. Sin qui lo stato dei conti della regione siciliana ha discusso e presentato dall'assessore Armao e dal governatore Musumeci, ma non si poteva tornare sulla questione emergenza rifiuti. Sentiamo. Si torna a parlare di rifiuti e dell'emergenza con il presidente Nello Musumeci dopo che ha chiesto al Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale per Bello Lampo e per intervenire sui comuni inadempienti sulla differenziata. Il problema dei problemi, come già annunciato, è Bello Lampo. Per la settima vasca ci vogliono dai sei ai sette mesi, ma con i poteri straordinari i tempi di realizzazione si potrebbero accorciare, motivo per cui nelle scorse settimane i cancelli della discarica sono rimasti chiusi per decine di comuni della provincia. Bisogna intervenire subito, ha ribadito anche oggi Musumeci. Questa situazione non può essere affrontata con strumenti ordinari. Serve riformare il sistema delle società di regolamentazione dei rifiuti. Su questo Musumeci è stato chiaro. Su 18 SRR solo tre sono attive. Basta con enti che giocano con il denaro pubblico e non producono il risultato. Ritorno a parlare poi della competenza dei rifiuti che deve andare secondo il Presidente alle province. Devono esserci nove riferimenti, così facendo la Regione verrebbe sollevata dal ruolo di gestione del rifiuto che la normativa non le consentirebbe. Verranno avviate ispezioni negli ex auto e individuati nuovi commessari ad acta. Entro aprile avremo una nuova legge sui rifiuti, promette il Presidente che conferisce maggiori poteri agli enti locali. Stiamo predisponendo un disegno di legge di iniziativa governativa che assegni le competenze per i servizi dei rifiuti alle province. Quindi avremo nove interlocutori e non 33 come avviene in questo momento. Non soltanto per i rifiuti, ma noi riteniamo che alle province debbano essere decentrati altri poteri, per esempio quello sulla edilizia popolare, per esempio quello sulla gestione delle acque, per esempio quello della pianificazione turistica e commerciale. Insomma, tutte le competenze previste dalla legge 9 dell'86 e in più altre competenze che oggi sono in capo alla Regione. La Regione, non mi stanco mai di dirlo, deve smetterla di essere ente e gestore. Illegittima l'elezione di Nello Musumeci. Lo sostiene e lo ribadisce, lo ha ribadito oggi a Palermo Franco Busalacchi, leader del Movimento I Nuovi Vespri. In conferenza stampa ha illustrato le ragioni che lo hanno portato a inoltrare un ricorso formale al Taro. È un ricorso perché Musumeci non deve stare dove sta. L'elezione di Musumeci è illegittima. Franco Busalacchi, leader del Movimento I Nuovi Vespri, non ha dubbi. Le irregolarità delle liste delle elezioni delle 5 novembre scorso sono tali da invalidare il voto. In conferenza stampa a Palermo ha spiegato insieme all'avvocato Lillo Massimiliano Musso le motivazioni che lo hanno spinto a presentare il ricorso al Taro. L'illegittimità della posizione musumeci nasce dalle stesse indicazioni che il Taro ha dato per impedire alla mia lista di partecipare alle elezioni. Le irregolarità puramente formali che il Taro ha definito insanabili perché il nostro meccanismo elettorale è rigido e non può subire modificazioni sono nulla al confronto delle illegittimità, delle irregolarità, delle illegalità che sono state commesse nella compilazione e presentazione delle liste. Ci sono persone che sono attrezzate al vernaviglio e sono nello stesso tempo presenti ad agrigento, il che mi pare che non sia soltanto una illegalità formale ma un falso ideologico e documentale. Il leader dei Nuovi Vespri parla di falsi documentali facendo riferimento a documenti mancanti, firme non autenticate e accettazioni di candidature modificate con il correttore, ha detto. Questi sono gli elementi che fanno cadere, come le matriosche, le liste. Cade un candidato, cade una lista, cadendo una lista ne cadono altre, cade il quorum tutti a casa. Sono in corso le ricerche di un pastore romeno di 47 anni che si è perso nel territorio di Monte Pagnocco-Bellaura, nei pressi di Portella della Ginestra, nel Palermitano. Dunque è stata presentata una denuncia di scomparsi ai carabinieri della stazione di San Giuseppe Iato. Sono impegnati nelle ricerche, oltre ai militari dell'arma, anche i vigili del fuoco, le pattuglie della forestale, il soccorso alpino e i volontari della protezione civile comunale. Nuovi sviluppi sull'omicidio di Pier Santi Mattarella, ex presidente della regione siciliana e fratello dell'attuale presidente della Repubblica. La DDA di Palerma ha riaperto l'inchiesta. C'è un filo che lega i delitti del presidente Pier Santi Mattarella, del giudice Mario Amato e la strage di Bologna. Lo afferma in un'intervista al Quotidiano La Repubblica Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime dell'Esplosione alla stazione bolognese, deputato del PD. In quelle 1980, dice, i killer neri erano legati alla P2 ed ambienti deviati dei servizi segreti. In un rapporto del giudice Loris D'Ambrosio del 1989 che indicava una pista precisa da seguire, afferma Bolognesi, c'erano i preziosi spunti di indagine che non sono stati mai approfonditi e è venuto il momento di farlo. E proprio sull'omicidio di Pier Santi Mattarella, ex presidente della regione siciliana e fratello del capo dello Stato, Sergio Mattarella, assassinato nel giorno dell'epifemia nel 1980 a Palermo, da sicari rimasti senza nome, la DDA di Palermo ha avviato nuovi accertamenti. I nuovi approfondimenti su chi sparò prendono spunto da una targa e riaprono la pista nera già seguita da Giovanni Falcone che portò a giudizio Giuseppe Fioravanti che fu però assolto da una corte d'assise. Il killer sparò con una pistola a Mattarella e poi fuggì salendo su una Fiat 127 dove l'aspettava un complice, anche lui rimasto senza nome. In questi ultimi mesi sono apparse sempre più visibili alcune tracce che i magistrati del procuratore capo Francesco Lovoi stanno seguendo con attenzione collegando informazioni che erano state sottovalutate o scartate. Una riguarda proprio quella targa o meglio gli spezzoni di una targa ritrovati il 26 ottobre 1982, due anni e dieci mesi dopo l'omicidio di Mattarella nel Covo Nero di Torino. In un appartamento di via Monte Asolone i carabinieri trovarono due targhe tagliate. Un primo spezzone aveva la sigla PA come Palermo e il secondo PA 563091. Sono gli stessi numeri ma composti diversamente rimasti agli assassini di Persanti Mattarella che avevano utilizzato due targhe rubate per camuffare la Fiat 127 del delitto. Una coincidenza che aspetti di stupefacente singolarità, scriveva Loris D'Ambrosio, grande esperto di indagini sulla destra eversiva, nel corposo dossier sul delitto Mattarella, partendo proprio da quelle targhe avanzando l'ipotesi che ad uccidere il presidente della regione siciliana fossero stati proprio i neofascisti. I ministri Orlando e Franceschini, afferma, bolognesi avevano firmato un protocollo di intesa per creare un archivio digitale dei processi, ma nulla è stato ancora realizzato. In questa veste ho chiesto ai rappresentanti dei servizi convocati in commissione i fascicoli personali dei componenti della cosiddetta Gladio Nera, il nucleo di difesa dello Stato ufficialmente sciolto nel 1973. I rappresentanti dei servizi hanno detto alla commissione che ci sono problemi di privacy e che quelle schede non possono essere consegnate e la ritengo una risposta inaccettabile. Una notizia dell'ultima ora, appena giunta in redazione un migrante di giovane età, ospite dell'hotspot di Lampedusa, si è tolto la vita nella struttura. L'extracomunitario, secondo le prime frammentarie notizie, si sarebbe impiccato. I migranti, attualmente ospitati nel centro di Lampedusa, sono quasi tutti tunisini. E invece fuori pericolo e presso lascerà il reparto di rianimazione dell'ospedale dei bambini a Palermo, la biba di 18 mesi che ieri ha ingerito dell'ascisce mentre si trovava con i genitori. Aveva scambiato la sostanza stupefacente per una caramella. Sta meglio, dopo una notte trascorsa di rianimazione, spiega il direttore sanitario Trizzino, dopo alcune consulenze verrà trasferita il reparto. Ancora non verrà dimessa. Ricordiamo che il giudice del Tribunale per i minorenni di Palermo sta esaminando la vicenda. Andiamo adesso nel nostro giro per i quartieri di Catania. Oggi siamo stati nel quartiere di Fossa Creta, tra strade che sprofondano, vie pattumiera ed enormi incompiute. Intanto i cittadini lanciano un grido d'allarme alle istituzioni. Non lasciateci da soli. Il rione Fossa Creta di Catania, invasso dalla spazzatura, è sotto costante scacco da rischio idrogeologico. Gli abitanti lanciano l'allarme e chiedono interventi urgenti, a cominciare proprio da via Fondoromeo, la strada che collega le tante aziende del rione al resto di Catania. Il problema è che facendosi un giro nel quartiere si vede che ci sono migliaia di alberi e che non sono mai potati, che non ci sono stati interventi di manutenzione che si dovrebbe essere quotidianamente. Ricordiamo bene che c'è stata anche la vicenda degli zingari qualche anno fa, che c'è stato l'incendio. Noi chiediamo all'amministrazione non solo di fare chiacchiere, ma di fare fatti. Allora gli interventi che si devono fare? Immediatamente la videosorveglianza per quanto riguarda la zona per i rifiuti. Il rischio idrogeologico che se ne è parlato, si parla di migliaia di Euro che ci sono per il rischio idrogeologico, ma qua non sta succedendo nulla. Un'altra cosa che mi preme dire e che sollecito al più presto con l'interrogazione all'amministrazione è per quanto riguarda tutti questi alberi, perché basta che ci sia un incendio, ci siano problemi seri per i cittadini e anche per la viabilità. Considerate che questo è un quartiere principale della città, è un nodo dove c'è San Giorgio, Librino, prima municipalità, quindi è molto trafficato quotidianamente e tra l'altro c'è anche il cimitero qui vicino. Oggi muoversi tra queste zone è diventato un'impresa e c'è paura per una nuova calamità già praticamente annunciata. Alcuni hanno anche mandato segnalazione alla prefettura per chiedere di ripulire l'area e proteggerla da simili pericoli. Sicuramente non si può pensare solo a una parte della zona di Catania. Ritengo che questi soldi che dicono l'amministrazione, ancora non abbiamo visto niente, sono solo proclami. Ricordo bene anche il fatto di alcuni interventi che si dovrebbero fare. Noi sollecitiamo l'amministrazione di fare degli interventi e speriamo che pensano a tutta la città, ma non solo una parte. Restiamo a Catania e torniamo a parlare del Palacatania, l'abbiamo fatto nei giorni scorsi. Quando piove l'acqua precipita dal tetto al campo di gioco. Ne ha parlato oggi il deputato PD Berretta che ha detto si tragga spunto da questa notizia, per la verità che notizia non è perché è una notizia che dura da circa dieci anni, per trovare una soluzione a tutti e per tutti gli impianti sportivi catanesi. Giuseppe Berretta, deputato del PD Etneo. Il Palacatania è un impianto, il principale impianto sportivo di Catania che letteralmente fa acqua da tutte le parti. Sì, ho raccolto questa denunzia che proviene dal mondo della pallavolo, in particolare dal presidente Luigi Pulivirenti. Certo, è un impianto enorme, molto significativo, caratterizzante della nostra città che purtroppo è in condizioni davvero troppo precarie. Allora l'appello che proviene dal mondo della pallavolo va raccolto, va data risposta rapidamente. Vanno effettuati gli interventi di manutenzione strettamente necessari, ma ha fatto una politica di programmazione diversa rispetto a quella che si è fatta sin qui. Per tanti impianti si è presa la strada dell'affidamento esterno. Io credo che quella sia una strada proficua che consente a chi materialmente utilizza gli impianti di poterli gestire, di poterli gestire potendo programmare e potendo anche garantire ai propri associati e a tutti i fruitori della struttura condizioni adeguate per lo svolgimento dell'attività sportiva che è un'attività fondamentale. E' stato uno degli autori più celebri e riconosciuti a livello siciliano, nazionale e non solo. Il principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la cui tomba si trova nel cimitero dei Cappuccini, ma il capoluogo siciliano non sembra rendergli omaggio. La lapide, infatti, come vedrete fra poco dalle immagini, appare spoglia e trascurata. L'autore del Gatto Parto riposa quasi dimenticato neanche un vaso tutto suo dove mettere dei fiori e i pochi rimasti sono appassiti. Pochissimi palermitani sanno dove sia seppellito eppure arrivano da tutta Europa e anche dal resto del mondo per omaggiare il principe. Accanto a lui riposa la moglie, ma per la coppia, a rispetto della fama e del rango, una triste sepoltura. Sopra la sua tomba una rosa rossa appassita, un messaggio sbiadito dalla pioggia, un biglietto da visita di un professore del Dipartimento di letteratura italiana dell'Università del Messico. Come a voler dire, se c'è qualcuno interessato a parlare del principe e del suo straordinario romanzo, io sono qui. Il Gatto Parto, come saprete, è stato un libro immortale che ha reso eterno il suo autore e che meriterebbe un po' di riguardo in più da parte di tutti per lui e per la sua tomba, che continuiamo a vedere in queste immagini. Cambiamo decisamente argomento perché da domani, il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, scattano ufficialmente i saldi, ma non tutte le associazioni di categoria la pensano nello stesso modo. Ecco alcuni consigli utili per fare l'acquisto al prezzo giusto. Da domani partono i saldi invernali, un'occasione per fare incetta per sé e per i propri cari, ma attenzione ai prezzi. Secondo Conf Consumatore Sicilia bisogna diffidare dei saldi superiori al 50% perché potrebbero essere prodotti dell'anno scorso. I cartellini devono esporre la doppia cifra con il prezzo pieno e quello scontato e se il negoziante rifiuta la vostra carta di credito ricordategli che è obbligato ad accettarla e in caso contrario, ebbè, cambiate negozio. Conservate lo scontrino perché in caso di merce difettosa vale la garanzia legale di due anni prevista dal Codice del Consumo per i beni difettosi o non conformi a quanto richiesto dal consumatore. Ma le opinioni sugli sconti sono discordanti. L'offerta dei saldi è abbastanza interessante. I consumatori perché possono trovare un buon stock di merce presente nei negozi e il sistema negozi con il servizio e i consigli che dà i consumatori stessi può permettere di realizzare degli ottimi acquisti. E mentre il presidente di Confcommercio ha una visione positiva, il Codaconsa invece la pensa così. Se si adottassero dei prezzi convenienti tutto l'anno anziché fare dei ricarichi eccessivi sulla merce, probabilmente il flop che noi purtroppo prevediamo non ci sarebbe. Chi cerca di mettere in chiaro le cose e riportare la pace tra le posizioni è Salvo Politino, direttore Confesercenti Catania, che dice possiamo aprire una discussione su natura e modalità delle vendite promozionali, su chi deve effettuare i controlli necessari sul rispetto del principio di trasparenza e fiducia nei rapporti con l'utente finale, ma di fatto senza l'introduzione di una norma che ne regoli data e durata e che dia strumenti e libertà per far competere le nostre piccole imprese è davvero difficile. Di atribbe a parte, il fascino dell'acquisto è comunque sempre di moda. Parliamo adesso dell'ospedale di Cefaluce, un nuovo sistema di prenotazione attraverso Whatsapp. Parliamo adesso invece di un maxifinanziamento in arrivo nel comune di Sant'Agata Libattiati, vedremo di proporvi l'altro servizio magari più tardi oppure nella prossima edizione del telegiornale. Maxifinanziamento, dicevo, in arrivo nel comune di Sant'Agata Libattiati per la ristrutturazione della biblioteca comunale. Oggi l'annuncio al comune da parte del sindaco. Ascoltiamolo. Questo finanziamento che nasce circa da due mesi fa, quando ho avuto l'opportunità, dettatami dai deputati Valeria Sudano e Luca Sanmartino che ci hanno portato l'opportunità di partecipare a questo bando, ho da subito riunito il mio staff, il mio ufficio tecnico per lavorare sul progetto della biblioteca. Abbiamo reso questo progetto definitivo, praticamente cantierabile e da quel momento è iniziato il dialogo, dopo la partecipazione al bando, con il Governo nazionale. Il Governo nazionale, nella persona del Ministro Lotti, che ringrazio per l'attenzione al nostro territorio, mi ha fatto questo regalo. Era un regalo che non conosceva nessuno nel mio consiglio, nella mia amministrazione e oggi lo ufficializzo donando questo grande, grande, perché è un finanziamento importante, 1 milione 100 mila euro, per la ristrutturazione e riqualificazione della nostra biblioteca comunale. In realtà la biblioteca avrà tre luoghi, una parte esterna dove i miei concittadini potranno leggere tranquillamente, serenamente, visto le nostre belle giornate di sole, un buon libro, una parte di biblioteca che sarà totalmente ristrutturata, adeguata negli impianti, adeguata dal punto di vista anche dell'efficientamento energetico e poi il mio sogno, quello di poter, visto che non riesco a realizzare un teatro, ma sono sindaco da appena sei mesi, un mini teatro. Questa biblioteca, questa immensa sala sarà totalmente riqualificata affinché diventi un teatro, un piccolo teatro con servizi igienici per gli artisti e per il pubblico, i camerini per gli artisti, riqualificato talmente all'interno, anche dal punto di vista degli aredi e sarà una bellissima sorpresa che spero di qua a breve poter inaugurare e cedere alla mia cittadinanza. La volontà di questo sindaco di puntare sulla cultura è perché il nostro territorio è ad altissima vocazione culturale. Conseguentemente avere un punto, un luogo dove poter trasferire quel dialogo, quelle sensazioni, quelle emozioni, quel normale, oltre che dialogo, contesto dove i cittadini possono partecipare a quelle che sono le scelte di un'amministrazione, porta certamente a una qualità della vita superiore, ad alzare l'asticello del senso civico e poi il milione e cento mila euro non servono esclusivamente alla realizzazione, ma sono economie fresche, economie pulite che arrivano in un territorio per creare anche piccole opportunità di lavoro. E vorrei aggiungere... Avevamo annunciato in precedenza, è pronto il servizio relativo all'ospedale di Cefalù in provincia di Palermo e dell'innovativo sistema per la prenotazione. Arriva un nuovo canale di informazione per la Fondazione Giglio di Cefalù che sfrutta le potenzialità offerte dall'applicazione WhatsApp. Si chiama Ospedale Giglio WhatsApp News e consente agli utenti iscritti al servizio di ricevere sul proprio telefonino in tempo reale notizie e aggiornamenti su tutte le prestazioni sanitarie che offre il complesso ospedaliero. Dall'8 gennaio la Direzione Sanitaria dell'ospedale ha attivato una linea telefonica dedicata corrispondente al numero 335-788-606 a cui gli utenti potranno inviare la richiesta del medico di medicina generale e attendere la risposta con la data e l'ora della prenotazione. Mettiamo a disposizione dei cittadini, ha detto il Direttore Generale Vittorio Virgilio, nuove tecnologie e strumenti che possono facilitare e velocizzare l'accesso alle prestazioni. Il nuovo numero non risponde a chiamate dirette ma serve soltanto ad implementare i servizi già esistenti dell'ospedale Giglio di Cefallù, un servizio online che permette di porre la struttura sanitaria siciliana in linea con le altre grandi strutture italiane dove il servizio è già attivo da tempo. Dopo l'abbattimento del cinghiale a Palermo, la notizia è di ieri, l'Empa, lente protezione animali, contraria all'abbattimento chiede una maggiore protezione degli animali e il controllo degli accoppiamenti. La notizia ha fatto il giro d'Italia in poche ore ma non sarà un caso isolato. L'avvistamento ieri di un cinghiale in una scuola, il ferimento di un collaboratore scolastico e l'attraversamento in Viale dell'Olimpo aprono diversi scenari. In realtà non era mai successo un caso del genere. In passato si sono verificati altri avvistamenti tra Monte Pellegrino e la D'Aura. Un uomo è morto nelle Madonia per un anno fa colpito proprio da un cinghiale ma ieri per la prima volta c'è stato un contatto tra gli animali e la popolazione in una zona altamente urbana. Il rischio è quello che in futuro altri suidi, un incrocio tra cinghiale e suini, possano arrivare alle porte della città, attirati proprio dai rifiuti. Ad oggi c'è una colonia molto vasta e difficilmente quantificabile sulle Madonie, ma anche a Monte Pellegrino, il monte che sovrasta il capoluogo siciliano, diversi specialisti hanno confermato la presenza di suidi alle falde del mondo, spesso attirati proprio dai rifiuti. Una situazione molto complicata che va analizzata a fondo. Di sicuro vanno presi provvedimenti per la salvaguardia degli animali e delle persone. L'EMPA, in più di un'occasione, ha spiegato che la presenza di questi animali ha radici lontane e il problema sta soprattutto nella loro velocità di accoppiamento. L'Ente Nazionale Protezione Animali spiega che l'abbattimento controllato paventato dal governo regionale di Crocetta un anno fa o il caso di ieri a Tommaso Natale non può essere la soluzione definitiva al problema. Servono politiche mirate alla salvaguardia degli animali e soprattutto bisognerebbe controllare gli allevamenti e le vendite online, una situazione che adesso è finita sul tavolo del governatore Musumeci. La pagina dedicata allo spettacolo ha presentato a Palermo la sua prossima commedia, si chiama Benedetta Follia, stiamo parlando di Carlo Verdone, lo abbiamo ascoltato. Carlo Verdone torna al cinema con una nuova divertente commedia, il 26esimo film nel quale regista e protagonista. Presentato in anteprima a Palermo Benedetta Follia, il film che segue le vicende di Guglielmo interpretato da Verdone, uomo di specchiata virtù e fede cristiana, proprietario di un negozio di articoli religiosi. I suoi valori crollano all'improvviso quando sua moglie lo abbandona dopo 25 anni di matrimonio proprio nel giorno del loro anniversario. La vita però riserva ancora qualche sorpresa allo sfortunato Guglielmo che in una giornata come tante nel suo negozio riceve la visita di un'imprevedibile candidata commessa, Luna, interpretata da Elenia Pastorelli. Una ragazza di borgata travolgente, volenterosa ma altrettanto incapace e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento. Luna traghetterà l'abbottonato datore di lavoro attraverso un mondo proibito di single allo sbaraio, fatto di appuntamenti al buio e app di incontri. Le vite di Guglielmo e Luna così avranno dei risvolti totalmente inaspettati perché come quelle del Signore anche le vie dell'amore sono infinite. Divertimento e comicità con un tocco di poesia. Alla fine il messaggio è che nella vita si può sempre ricominciare. Comicità, divertimento, colpi di scena, amicizia, senso di grande amicizia e grande poesia. Però l'ho girato bene, gli attori erano veramente in parte. Quindi tutto assume un carattere molto, c'è un tono molto pagato, pieno di affetto, pieno di amore. Ci sono due abbracci nel film, nel finale, che praticamente danno un po' il senso di questa storia. Quindi si conclude in una maniera come se fosse una carezza per lo spettatore, ecco così la vedo io. Forse è un film che però poi lancia un bellissimo messaggio, cioè che forse l'amore è più vicino di quello che sembra. Io ce l'ho messa tutta, ho dato a Verdone e gli ho dato guarda tutto il mio cuore, tutta la mia anima e tutta me stessa proprio perché... Maladata. Insomma... Maladata. La forza maladata. Non siate con i doppi sensi. Maladata la forza, maladata l'energia, maladata la dritta. L'anima. Noi ci fermiamo qui per la prima parte del nostro telegiornale, vi aspettiamo fra poco con la pagina sportiva. Un'occasione unica per sciare sulle incantevoli piste dell'Etna. Anzi, un'occasione doppia. Grazie all'abbonamento per la stagione sciistica per gli impianti di risalita, sui versanti di Lingua Glossa e Nicolosi. L'abbonamento stagionale può essere sottoscritto presso la partenza della funivia dell'Etna al Rifugio Sapienza oppure alla partenza della seggiovia a Piano Provenzana. Lo sport con il calcio in primo piano e il mercato. Il Catani è in apertura perché si avvicina Caccavallo per la squadra etnea, ma ci sono altri nomi sul taccuino del DS Argurio e del direttore generale Pietro Lomonaco. Entra nel vivo la sessione invernale. A bollire in pentola in questo periodo lontano dal rettangolo di gioco ci sono le trattative di mercato e in casa Catania, specialmente dopo le parole dell'amministratore delegato Pietro Lomonaco ai nostri microfoni, dove aveva confermato di avere già individuato i tasselli da inserire in rosa, si sta lavorando per la ripresa fissata fra poco più di due settimane. Ancora nessun trasferimento è stato ufficializzato, ma i dirigenti etnei stanno lavorando a lacremente per garantire a Lucarelli il prima possibile elementi freschi. Mancherebbe soltanto la firma sul contratto per Giuseppe Caccavallo, esterno offensivo classe 87 che andrà a infoltire l'attacco rossazzurro. Operazione che si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il reparto d'attacco sarà oggetto di trattative anche e soprattutto in uscita, con Zeturbo e Rossetti pronti a fare le valigie. Se per il primo è previsto un ritorno all'Inter prima di essere nuovamente girato in prestito, per il giovane ventunenne rossazzurro ci sono diversi club di Girone C interessati ad accoglierlo in prestito. Fidelis Andria su tutte. Al contrario proprio dall'Andria è di ritorno Max Barisic, tre i golf in cui segnati in stagione dal classe 1995, che dunque potrebbe essere a disposizione di Lucarelli per il raduno di Torre del Grifo del prossimo 8 gennaio. Su Mazzarani c'è il veto del tecnico toscano, richieste anche dalla serie a cadetta che dunque non verranno prese in considerazione. Chi invece potrebbe partire Giorgevic? L'esterno non ha mai goduto di grande spazio quest'anno e ha tante richieste per il serbo sfida Trefoggia, Parma e Alessandria. Stilate le cessioni sarà poi necessario pensare all'innesto di qualità e sostanza in mezzo al campo. Per la mediana piace sempre Jacopo Dall'Oglio, centrocampista di proprietà del Brescia ma di sangue siciliano, profilo di corse e dinamismo, trattativa non semplice ma che potrebbe decollare nel giro di qualche settimana. Gli ultimi rumors sempre per il centrocampo raccontano anche di un interesse per Alessandro Mastalli, giovane mediano della Juve Stabia, quest'anno a segno due volte con le vespe, come è possibile vedere dalle immagini. La valutazione del giovane da parte del club campano è però molto elevata. Scoglio non di poco conto che potrebbe condizionare un'ipotetica trattativa. Serie C ferma fino al weekend del 21 di gennaio, stesso discorso vale per la Serie B, anche in questo caso però fermano le trattative per l'unica siciliana in corsa, il Palermo, che è in corsa anche per tornare in Serie A. Ci sarà un incontro importante per delineare le strategie di mercato fra Zamparini, Lupo e Tedino. Zamparini guarda venti e pensa solo alla promozione in Serie A. Per l'istanza di fallimento presentata dalla Procura c'è tempo, se ne parlerà a marzo. Adesso conta solo il mercato. Nelle prossime ore è previsto il primo incontro tra il patron del Palermo Maurizio Zamparini, il direttore sportivo Fabio Lupo e il tecnico Bruno Tedino per pianificare, decidere come integrare, potenziare senza intaccare gli equilibri, una Rosa che è già stata capace di totalizzare 39 punti nel girone d'andata. Due sono al momento i profili prioritari nell'agenda dei siciliani, un esterno, giovane di prospettiva, possibilmente mancino naturale, che possa fungere da vice all'esami e un centravanti di categoria. Un paio di movimenti in attacco potrebbero registrarsi anche in uscita, da sciogliere infatti i nodi relativi al futuro di Carlos Embalo. Il suo procuratore ha chiesto la cessione, il Palermo ci pensa. L'altro nome è quello di Gaetano Monachello, l'attaccante, assegnato nell'ultima partita di campionato contro la Salernitana. Era stato sicuro partente, adesso si riflette sul suo futuro. In entrata invece uno degli obiettivi resta Samuel Di Carmine, cercato genestate dal club di Viale del Fante. Per l'attaccante classe 88 si profila però una vera e propria asta. Gli Umbri chiedono 2 milioni di euro. Il Palermo al momento ritiene la quotazione troppo alta, se ne tornerà a parlare. Nel frattempo si attende di capire come finirà il summit tra Zamparini, Lupo e Tedino. Da lì si deciderà il futuro del Palermo. Fermi dunque i campionati professionistici con squadre siciliane di calcio. Si gioca invece in questo weekend nei campionati di pallannuoto, pallavolo e calcio a 5. Volge al termine la sosta invernale per le feste. Le squadre siciliane di tutti gli altri sport, dal futsal alla pallannuoto, torneranno in campo in basca per il primo turno del nuovo anno. Il 2018 si apre col botto nel campionato di serie a maschile di pallannuoto. L'undicesima giornata proporrà il derby siciliano tra Ortigia e Nuoto Catania. Sfida tra compagini che hanno chiuso positivamente l'anno lasciato alle spalle e intendono continuare a correre. Si parte domani alle ore 15 alla piscina Paolo Caldarella, in pianto di casa degli Aretusei. Inaugureranno il nuovo anno anche le formazioni siciliane di Futsal per il torneo di serie a 2. Domani alle 16 scenderà in campo la meta calcio a 5 che attende i pugliesi del Bisceglie per mantenere la sorprendente seconda posizione in classifica. Si disputerà la dodicesima giornata invece per quanto riguarda il girone meridionale di serie B. Per la pallavolo, terza gara in sette giorni per la volley Catania di Cochirigano in serie a 2. Gli etnei, reduci dalla netta sconfitta di Roma, avranno il supporto dei propri tifosi nella sfida casalinga contro Reggio Emilia, importante per dare una risposta e risollevare anche le sorti della classifica. Si alzerà il sipario sul nuovo anno per le squadre isolane di serie B. Riparte la caccia alla capolista Conad Lamezia. Sabato alle 17.30 l'ultima TV Volley Valle affronterà la palestra Mascagni di Catania e il Cosenza per continuare la scalata in classifica. Impegni esterni per le altre due etnei a Gupe Volley Universal rispettivamente impegnate contro Lamezia e Vibo Valencia. Tutto per questa edizione dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.